Spegne 100 candeline l'associazione Soroptimist Italia. La presidente Mariolina Coppola ci racconta come si è arrivati a questo traguardo. Siamo arrivati bene perché stiamo cambiando pelle. È un'associazione tradizionale che è stata fondata nel 21 a Oakland in California. Siamo 5 federazioni, 70.000 socie, quindi un'associazione mondiale e internazionale anche nella sua mission. In Italia siamo 5.160 città e siamo stati molti attivi in questo ultimo anno. Abbiamo fatto tantissimi service veramente particolari. Il Soroptimist quali ha come sue missioni principali, oltre naturalmente al sostegno all'empowerment femminile? Noi lavoriamo sui diritti, sui diritti di tutti. Lavoriamo per le donne ma non a favore delle donne, a favore dell'intera società. Quindi la nostra mission è proprio quello dell'avanzamento della condizione femminile, l'empowerment, la leadership, il mainstreaming, cioè le pari opportunità. Lavoriamo tantissimo per le pari opportunità. Ci sono anche dei rappresentanti delle istituzioni quest'oggi. Cosa sente di chiedere per lo sviluppo della condizione femminile a questo governo? Abbiamo chiesto a questo governo di avere un'attenzione diversa. Abbiamo fatto moltissime proposte, sia al governo Conte che al governo Draghi. Sono state inserite nelle PNRR, soprattutto abbiamo chiesto infrastrutture sociali, come dire, uno scivolo per il lavoro femminile, una detassazione. Abbiamo chiesto tanto e devo dire che soprattutto il governo Draghi ci ha ascoltato moltissimo perché c'è un investimento molto forte sugli asili, appunto sulle infrastrutture, sui caregiver. Quindi veramente forse siamo in un momento di svolta. Non so se è una svolta culturale, ma l'investimento del governo c'è stato tutto. Qual è l'identikit della Soroptimista che è inserita pienamente nel mondo delle libere professioni? Wikipedia ci riferisce delle strane femministe. Siamo proprio delle strane femministe. Siamo tutte delle professioniste, ma rappresentiamo anche i mestieri, ci sono anche molte imprenditrici. Siamo donne molto impegnate dal punto di vista, come dire, del lavoro, ma ritagliamo degli spazi incredibili per l'associazione perché sicuramente se c'è un tratto che ci contraddistingue la passione. Quello che è importante evidenziare è come attraverso un'associazione di donne che ha un respiro mondiale le donne siano cresciute e abbiano aiutato altre donne a crescere. Perché il senso ultimo di questa nostra associazione Soroptimist è quella di un gruppo di donne che si sono realizzate nella vita e che hanno avuto il piacere, il desiderio e sono riuscite ad aiutare molte altre donne a crescere e a maturare. E' questo quello che rende preziosa la nostra attività, che fa sì che i risultati del nostro lavoro, del nostro impegno, che è tutto impegno volontario, siano molto significativi, come è emerso anche da ricerche che sono di tipo molto moderno, che sono quantitative, che si basano su numeri, dati e statistiche, ma alla fine evidenziano qualcosa che storicamente è evidentissimo. La nostra crescita personale, in quanto Soroptimist, in quanto donne, in quanto donne che hanno raggiunto posizioni di prestigio nel lavoro e nella vita e che tutte insieme hanno voluto aiutare le donne meno fortunate di loro a raggiungere gli stessi obiettivi e gli stessi risultati. E oggi sapere che ci sono delle giovani donne che hanno lo stesso piacere di fare mentoring, di riunirsi, di mettersi in rete con strumenti diversi, con modalità diverse, per raggiungere gli stessi obiettivi, dare una mano agli altri, ecco, in particolare alle altre, bene, è bello in questo mondo così egoista vedere che c'è ancora la voglia e la capacità di spendersi gratuitamente per gli altri perché alla fine il ritorno è tanto ed è un ritorno che ci arricchisce tutte.